Sorpresa sorpresona, oggi non doveva esserci il podcast e infatti questo non è nessun episodio dei nostri podcast, è l'ultima tappa del percorso quell'uomo che è in te, io sono Emanuele e oggi sono da solo, così sono tutto per voi, per questa decima e ultima tappa del percorso, così vi acchiappo tutti, vi acchiappo anche a chi ci ascolta solo sui podcast che magari non sa minimamente che cos'è. Quell'uomo che è in te e così vi beccate la parte finale e se siete curiosi, se avete voglia, se avete tempo e insomma se credete dopo sul sito e su youtube ci sono tutte le altre tappe precedenti, quindi in questo percorso brevemente cos'era, cos'è e cos'è stato, mettetela come volete, è semplicemente stato un percorso di riscoperta e di conoscenza approfondita diciamo di alcune tematiche dell'identità maschile, dell'essere uomo, dell'essere padre, dell'essere maschio in generale e ovviamente anche questo percorso come gli altri è stato un po' accompagnato e dallo spirito santo nel senso che non mi sono dato argomenti, contenuti a priori già scritti prima, ho seguito un po' l'esperienza che ho vissuto io, che sto vivendo io da uomo, da papà e su questa terra e nella vocazione in cui il signor mi ha messo, contenuti che ho ricevuto da corsi, da percorsi che ho fatto, da approfondimenti comunque, da letture che comunque ho avuto diciamo nel mio cammino e li ho messi semplicemente in condivisione e man mano il denominatore comune è stato quello di prendere un po' dei modelli dei modelli di uomini biblici che ci potessero accompagnare, perché? Perché l'obiettivo diciamo finale di questo percorso era proprio quello di riscoprirsi uomini ma in esempio il modello di chi, no? Cioè verso chi? Verso Cristo. Cristo è il modello di uomo che appunto era quello che al quale noi punti appuntavamo fin dall'inizio, cioè guardare Gesù come modello proprio da seguire e proprio per raggiungere un po' come dice San Paolo, no? Al fine di edificare il corpo di Cristo finché arriviamo tutti all'unità della fede della conoscenza del figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo quindi proprio uomini a misura alla statura di Cristo e questa era diciamo la meta, quindi fissata la meta, questo lo diciamo spesso anche negli altri percorsi cioè prima fissi la meta, tu sai esattamente dove vuoi andare, verso chi e da chi sei mandato e man mano, man mano le tappe ti vengono svelate, ti vengono disegnate davanti e dentro le quali poi tu puoi camminare seguendo lo Spirito Santo nel presente quindi senza programmare troppo prima e senza già pensare di conoscere e questo è proprio quello che un po' è successo nel senso che nelle varie tappe e questo percorso è partito il 19 marzo dello scorso anno proprio in occasione della festa di San Giuseppe nell'anno dedicato a San Giuseppe da Papa Francesco e quindi io sono qui, cioè noi siamo qui oggi per concludere in onore appunto di San Giuseppe cioè da dove, da chi siamo partiti e perché San Giuseppe è il modello che ha seguito Gesù quindi se noi vogliamo puntare a Gesù come modello di uomo e andare alla statura sua, uomini alla statura sua dobbiamo guardare a chi Gesù stesso ha preso come modello da seguire, da imitare sulla terra nel suo perinaggio terreno perché poi è chiaro che c'è la relazione con il padre con il padre con la P maiuscola, con il padre celeste e ricordate che fin da 12 anni quando lui è stato perso, smarrito da Gesù da, scusate, da Maria Giuseppe nel Tempio a Gerusalemme lui ha detto ma non sapevate che dovevo pensare alle cose del padre mio quindi Gesù sa benissimo di chi è figlio però sta sottomesso a Giuseppe e a Maria e tutti quei 30 anni prima della vita pubblica quindi Giuseppe è un modello che Gesù ha preso e che lo ha accompagnato in tutti quegli anni e quindi che sicuramente anche a noi ha da dirci moltissimo sull'essere uomini, sull'essere padri e sull'essere quindi anche uomini capaci di accogliere, di custodire, di nutrire un figlio, un progetto, un sogno che porti nel cuore così come ha fatto Gesù, Gesù eppe con Gesù cioè Giuseppe ha dovuto accogliere Gesù come suo figlio un figlio di Dio arrivato dallo Spirito Santo e un uomo come noi, fragilissimo con tutte le sue paure adesso lo vedremo però ha saputo fidarsi, ha saputo prendere su di sé questa chiamata quindi abbiamo iniziato affidandola a lui e terminiamo quindi prendendo lui come figura di oggi perché appunto, ripeto, a chi guardare a chi guardare se non al modello che ha preso Gesù proprio su questa terra, no? quindi guardando un po' indietro, no? diciamo al percorso che abbiamo fatto ah, un'altra parentesi, mi sono dimenticato nel frattempo, appunto è iniziato nel 19 marzo dello scorso anno e poi nel frattempo si è e lo Spirito Santo li ha intrecciato intrecciato i percorsi quindi Intudeum che è partito a settembre dello scorso anno e si è poi andato a metterli in parallelo cioè questo percorso è andato a mettersi in parallelo con Intudeum o viceversa, dipende come la volete vedere nel senso che quell'uomo che in te è partito prima però poi alla fine del primo trimestre diciamo alla quarta tappa ragionando un po' e pensando e pregando su come procedere ho visto come si potevano e come si stavano in realtà allineando quindi dalla quarta tappa in poi circa e se poi andrete a rivederli se chi l'ha seguito così vede appunto che sono allineati dalla quarta in poi quindi dalla fine del primo trimestre in poi quindi insomma è stato un bellissimo percorso io ho guardato un po' diciamo indietro quindi ho fatto un po' di memoria ho riguardato ho riguardato e rivissuto anche tante cose che abbiamo vissuto insieme un po' come avevamo detto anche con Intudeum cioè questo arrivando alla fine era il momento, l'occasione per rivivere le tappe per riguardarle per andarle ad approfondire vedere le sottigliezze rivivere anche certi sentimenti però con la consapevolezza di uno che ha camminato per nove mesi non quindi la stessa che avevamo all'inizio quindi rivedere, rileggere certe cose però con una consapevolezza in più quindi io diciamo che ho voluto o comunque diciamo che lo spirito in preghiera mi ha suggerito di rimanere fedele a questi tre tre punti cioè i tre trimestri della gravidanza che hanno scandito il percorso di Intudeum in particolare e quindi poi anche questo percorso qua cioè mi sono detto così come abbiamo scandito secondo le leggi della gravidanza il percorso di Intudeum perché non scandire, non rivedere effettivamente con queste tre luci anche questo percorso qua e quindi parto con un punto zero diciamo quindi prima ancora dei tre punti e poi ci sarà un punto, un quattro chiamatelo come volete però ci saranno gli uno, due e tre che saranno un po' i tre punti secondo i quali io ho visto un po' la figura di Giuseppe inserita dentro questi trimestri e poi c'è un po' questo punto zero che è un po' un'introduzione che fa da denominatore comune diciamo tutto il percorso e poi ci sarà l'ultimo punto che è invece quello che invia quindi è fuori nel senso che è un po' il post nascita quello che vedremo e poi vi dirò quindi un punto zero che è quello che caratterizza anche un po' il perché ho voluto fare anche questa cosa, anche questa tappa di oggi al buio diciamo così, senza sconsolo l'audio così come abbiamo fatto la decima di Intudeum perché siamo nella morsa finale siamo nel buio finale dicevamo appunto nella decima tappa di Intudeum che è l'ultima stretta finale cioè il canale del parto è strettissimo cioè l'ultimo buio prima di vedere la luce della nascita ho voluto rimanere in questo buio anche qua con voi oggi con chi mi sta seguendo in questo percorso e con chi mi ascolterà oggi perché anche Giuseppe anche Giuseppe ha vissuto questo buio e ancora di più ed è il punto appunto che metto all'inizio prima ancora di tutto cioè lui è stato quello capace di vivere veramente questo nascondimento esattamente come Maria dicevamo nella nell'ottava tappa credo o nell'ottava credo di Intudeum che parlavamo della consagrazione di Gesù per Maria come Maria è stata capace di sottomettersi di stare lei per prima in questo grembo di Dio nascosta, chiusa, molto umile nel suo dire di sì all'opera di Dio e Giuseppe uguale nel senso che lui a sua volta è stato capace di dire questo sì nascondendosi completamente nella volontà di Dio e nel progetto suo nel suo grembo e infatti nel Vangelo sentiamo parlare pochissimo di Giuseppe non è sicuramente quella figura che vedete spuntare ovunque parlare dappertutto anzi una persona veramente molto molto silenziosa umile nascosta che sa fare le cose giuste nel momento giusto quindi per quello è l'uomo giusto e quindi io lo prendo come Maria lo prendo appunto come emblema proprio per questa gravidanza perché lui è stato proprio l'emblema del nascondimento dello stare nascosti in modo immaginario diciamo nove mesi nell'utero di Dio ma è saputo stare proprio nascosto in questo progetto che lui per primo non capiva non capiva perché era veramente turbato infatti adesso lo vediamo davanti a questa richiesta a questa chiamata che Dio gli fa di accogliere questo figlio che non arriva da lui e perciò lui è proprio uno diciamo non presente ma presentissimo cioè uno che secondo le logiche del mondo si direbbe appunto non presente quindi non non lo vedi non lo senti non c'è mai così ma lui c'è incide più di ogni altro e sa assolutamente operare secondo una obbedienza è una fede incredibile e quindi questo lo prendo come punto zero cioè come punto che accomuna sempre tutto quello che ha fatto poi Giuseppe e che ha accomunato e che ha accomunato appunto questo questo percorso di nove mesi è nostro nel senso che ci ha dato un po' il là no? cioè ha detto se tu uomo vuoi arrivare là quindi vuoi arrivare a conoscere di più il tuo essere uomo arrivare alla statura di Cristo metti questo come presupposto cioè sii capace di umiltà di essere nascosto completamente in Dio per metterti semplicemente in obbedienza non mettere il tuo ego non mettere il tuo io e stai sotto sottomesso in una proprio appunto come dicevamo rispetto a Maria e alla consacrazione c'è una sottomissione d'amore a quel Dio Padre buono che provvede non una sottomissione negativa che noi infatti poi andiamo a confondere no? con l'umiltà cioè pensiamo che l'umiltà sia proprio il sottomettersi o taccio perché alla fine insomma devo stare lì devo stare al mio posto così ma in realtà sotto sotto tante volte tra queste frasi c'è un io non valgo niente non dico niente faccio quel che c'è da fare e fine e non mi faccio vedere quella è rassegnazione l'umiltà è proprio il saper perfettamente quello che Dio ti chiede e quindi stare sotto a Lui stando sotto a Lui tu non hai bisogno di dipenderti non hai bisogno di prevalere su nessuno non hai bisogno di combattere non hai bisogno di far vedere che tu sei il più forte e invece noi uomini infatti lo abbiamo visto spesso nelle tappe precedenti precedenti di questo percorso come noi uomini appunto confondiamo e diciamo troviamo la soluzione a questa cosa facendo invece i maci facendo i grandi eroi quelli che hanno da dire la propria con la voce grossa facendo i muscolosi perché in realtà sotto c'è una grande insicurezza c'è un'insicurezza del fatto che tu uomo non sai non sai a cosa sei chiamato non percepisci un valore che ti è stato dato dall'alto e quindi te lo devi creare tu te lo devi difendere col coltello in bocca e questo è il guerriero è quell'uomo macio di cui noi ci facciamo un po' gli stereotipi diciamo noi dobbiamo essere così ma le donne non vogliono questo noi uomini le donne vogliono uomini forti nella fede e forti nella chiamata che Dio gli ha affidato e questo Giuseppe lo sa fare lo sa fare perfettamente non è quello che alza la voce non è quello che vuole assolutamente dire la sua ma dice la sua solo dopo mandato è questo quello che adesso sarà un po' il denominatore comune della riflessione di oggi ma Dio ti mette in un certo posto e lì ci vuole fede ci vuole fortezza ed è quello appunto che prendiamo come esempio base di questa figura del papà di Gesù quindi questo presupposto noi saper stare lì saper stare in quel posto nascosto in Dio è il presupposto che apre ai tre punti che ho un po' identificato seguendo il ritmo dei tre trimestri il primo punto è che Giuseppe ha un'identità ha un volto preciso Dio gli ha donato una chiamata precisa non temere Giuseppe di prendere con te Maria perché il figlio che è generato in lei è opera dello Spirito Santo cioè è il primo sogno che Giuseppe riceve è il dono dell'identità del volto è la caratteristica ricordate del primo trimestre il bambino riceve un volto arriva alla fine del primo trimestre che è il trimestre dell'ambivalenza è quello della confusione del turbamento del non capire cosa sta succedendo è il trimestre più delicato quello dove le gravidanze più spesso rischiano di terminare e di non andare a buon fine perché ci può essere qualcosa che lì non funziona un progetto che non viene accolto quindi la parola chiave era l'accogliere ricordate la prima tappa di Intudeum è l'accogliere un progetto un figlio un sogno qualcosa che ti viene affidato e di cui non capisci assolutamente niente anzi sei turbato esattamente come Maria quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo esattamente come Giuseppe quando ha ricevuto l'annuncio di questo angelo di dire non temere cioè quando si è trovato davanti Maria che gli ha detto questa cosa e lui stava pensando di ripudiarla cioè lui era proprio già su altri lì era comunque un uomo giusto perché stava ripudiando la stava pensando di ripudare in segreto ricordiamo quindi stava comunque agendo già in un modo diverso da quello che l'uomo base diciamo avrebbe fatto quindi già lì c'era una un'umiltà una delicatezza che si poteva trasparire e lì lì Dio si è infilato dicendo io mi fido di te proprio perché tu stai pensando questo io in realtà vengo a comunicarti quest'altra roba e lui si fida si fida della chiamata che riceve dell'identità che Dio gli vuole donare quindi gli dice appunto tu sarai padre di quel figlio e lo chiamerai Gesù cioè una roba grossa cioè lui non si sente all'altezza però si fida e questo è il primo punto è il primo punto della gravidanza è l'accogliere quella novità grande che irrompe e del quale tu puoi solo puoi solo godere e vedere diciamo il flusso e il processo quindi opera dentro al suo cuore quel discernimento che gli permette molto di riconoscere che quella lì è la voce di Dio non è un sogno a caso non è qualcuno a caso che gli sta chiedendo una roba a caso ma è proprio la voce di Dio quindi lì tutto inizia inizia quel viaggio con Dio e con la sua famiglia che diventerà la sacra famiglia cioè quindi lui sa cosa succederà ha capito che Maria partorirà un figlio e lui lo chiamerà Gesù il figlio di Dio quindi lo sa però ancora non ne conosce minimamente le tappe cioè lui non sa cosa si aspetta cioè cosa gli aspetta davanti sa solo dove arriverà e questo è quello che dicevo prima no? fissi la meta e poi le tappe ti si svelano man mano e questa è la fede è il fatto di io so dove sto andando ho capito quel progetto che mi ha affidato c'è quel figlio che mi deve arrivare so dove arriverò però non so minimamente come quando perché e in che modo quindi si fida e si incammina e si apre al secondo punto scusate e Giuseppe ha un valore ha un'autostima forte è forte di quel volto che Dio gli ha dato di quel nome che porta quindi tu esci dal primo trimestre bambino embrione l'utero di Dio hai un nome hai un volto hai un'identità hai scavallato il punto più delicato quello dell'ambivalenza del turbamento arrivi nel secondo trimestre che è quello della simbiosi quello dove entri veramente in relazione con questo padre che ti ha chiamato e ti ha dato un nome quindi Giuseppe fa questo cioè entra in questo secondo trimestre superato lo scoglio del primo sogno davanti al quale era turbato un bambino appena concepito si fida entra in relazione con il padre e quindi qui il padre continuerà a comunicargli tramite i sogni adesso infatti lo vediamo e lui così continua continua però perché perché lui si fa forte di quello che è già successo cioè gli verrà detto di andarsene di fuggire in Egitto perché Rode vuole uccidere il bambino è il secondo sogno e quindi lui si sente valoroso si sente stimato da Dio cioè lui continua a vedere che questo Dio gli manda dei sogni dei messaggeri per comunicargli il suo progetto e lui continua a essere incredulo da una parte del perché proprio a lui del perché proprio a lui un progetto così grande in quei modi eppure continua a fidarsi perché dice mi sono fidato la prima volta sto continuando a camminare e continuo a camminare di lì perché sento che lì c'è una voce più grande di me e che mi chiama alla verità quindi lui cioè va avanti va avanti nonostante la difficoltà e la paura e lo fa perché perché sente di dover custodire ed è il secondo verbo cioè il custodire questa identità questo nome ricevuto nel primo trimestre quindi entra in ascolto di questi sogni e di questa parola che Dio gli porta perché capisce che veramente è l'unica è l'unica di cui si può fidare quindi cresce cresce lui come uomo nella sua autostima perché è questo il punto dell'autostima che sentiamo tante volte tanti 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 discorsi tanti libri sull'autostima migliorare l'autostima è un cammino di una vita ma anche lì come tutti gli altri problemi di cui parliamo anche nei altri podcast nel percorso in to the womb cioè l'abbiamo detto più volte che è sempre ricollegato al primo discorso che facevo anche oggi tu fissi una meta e nel mentre ti guarisci sulle altre cose l'autostima anche lì sta in questa cosa cioè tu cammini verso Dio e verso quello che lui ti sta chiamando a fare e la tua autostima cresce di conseguenza non è come il fissarsi dicevamo spesso appunto sul sul problema o sulla cosa in sé e trovi delle strategie per migliorare quella roba lì ma non sai dove stai andando a un certo punto è un cane che si morga la coda è un cortocircuito cioè torna sempre indietro non fai una dieta perché la devi fare o smetti di fumare perché devi smettere di fumare devi darti un obiettivo una meta precisa e nel mentre verrai guarito e ti troverai a migliorare a crescere o addirittura ad eliminare anche certe vizi certe cose che ti portano giù automaticamente cioè in funzione di quella meta in funzione della chiamata di Dio Giuseppe fa questo lui crede crede alla chiamata di Dio lui cresce e crescendo verso di lì cresce la sua autostima perché si sente che prima era un verme e diceva ma come a me una roba così grossa si fida va avanti e man mano continua invece a dirsi sì sì proprio a me proprio a me perché io ho un valore davanti a Dio lui me lo sta dicendo io ci devo credere e così tu cresci nell'autostima è lì che credi credi in quel nome che ti è stato dato all'inizio e tu lo devi custodire cioè cominci a percepire veramente che è vero reale è autentico quel prodigio che Dio ti dice che tu sei e tu non credi di esserlo sono le tappe appunto che vi ricordate sono 5, 6 e 7 sono le tappe incentrate sul valore che tu hai per Dio e sul progetto che lui ha per te da dare al mondo tu hai un nome io ti consarco nella verità tu sei un prodigio sei degno di stima io ti amo è tutto così lui prosegue questo viaggio della gravidanza pur non sapendo minimamente a cosa andrà incontro ma lui continua a fidarsi e noi noi come uomini sul modello appunto di Giuseppe custodiamo questo valore che abbiamo proprio facendo memoria che è infatti appunto la chiave di questo secondo trimestre cioè il guarire la memoria il fare memoria di tutti quegli eventi di quella storia che io sono che è scritta dentro di me belli e brutti e positivi e negativi tutte le etichette che noi ci mettiamo ma in realtà davanti a Dio non c'è un bello e un brutto non c'è un negativo e un positivo è tutta storia scritta dentro di te che serve che serve a quella quella meta quella chiamata che devi raggiungere e quindi fare la memoria di quelle opere che Dio ha già compiuto in te quindi dicevo appunto prima che Giuseppe si fida e va perché l'aveva già fatto cioè lui si fida e va nel primo sogno e quindi va avanti così anche nel secondo no? non per inerzia cioè non per passività ripeto prima no? cioè quello che confondiamo noi con l'umiltà beh io vado cioè sto qui sotto tanto ha fine che devo fare devo poi solo obbedire io non ho poi niente da dire no? l'importante così è rassegnazione no no lui è perfettamente umile e inserito nel progetto di Dio perché lui sa benissimo che voce può avere ma aspetta i tempi giusti e in quei tempi di lui sa sottomettersi alla persona giusta che è Dio padre figlio spirito santo e quindi si era già fidato e va avanti così va avanti per fede e così cresce la fede così cresce l'autostima così cresce quel valore che lui ha e parte parte con tutta la famiglia e non esita non esita a farlo e apre così al terzo punto che Giuseppe quindi è un uomo poi capace in forza di tutti questi pezzi di percorso che ha fatto di fare anche l'ultimo pezzetto di percorso cioè è capace di affrontare questa nascita di Gesù quindi Gesù è nato ed è il terzo sogno il terzo sogno nel quale gli viene chiesto di ritornare in Israele perché ero devo uccidere tutti i bambini quindi c'è una grande paura è il momento della sua individualizzazione terzo trimestre individualizzazione cioè Giuseppe nato Gesù ha il suo ruolo ok quindi è entrato in questo ruolo di paternità che gli viene chiesto davanti quindi un orizzonte in realtà totalmente nuova se ne fa carico cresce la sua responsabilità ed è ulteriormente mandato nel mondo cioè Dio si fida ancora di più e quindi arriviamo a un punto in cui Dio quasi ha quasi meno bisogno di parlare a Giuseppe perché si fida ancora di più che Giuseppe dopo opera sempre in discernimento in preghiera ormai è uscito dalla simbiosi quindi c'è questa relazione con il padre che ormai si è strutturata e anche il padre dice benissimo figliolo sei stato qua con me fino ad adesso adesso mi fido ancora di più vai pure questo è il senso dell'individualizzazione non riesco a dirlo cioè proprio il dire io padre mi fido di te figlio perché ho visto che in questi in questi mesi in questi anni cioè dopo potete metterci quello che volete come percorso diciamo ti sei strutturato ti sei strutturato e sei stato con me hai ascoltato la mia parola sei cresciuto ti sei fatto la tua struttura di uomo fedele e quindi puoi andare mi fido totalmente perché quel nome che ti ho dato all'inizio quel valore che tu hai custodito e che tu sei per me ce l'hai e tu vedo che ne sei consapevole e vai quindi Giuseppe è consapevole di questa impronta che lui può dare nella storia quindi è nato Gesù e si mette in viaggio per convertirsi ancora di più cioè proprio per aprirsi totalmente a questo nuovo progetto di paternità che gli viene chiesto quindi proprio si prende tutta la responsabilità si carica di tutta la sagra famiglia viaggia in totale precarietà fidandosi completamente completamente e che arriverà che arriverà poi pronto a quel momento lì quindi è il trimestre anche dell'accrescimento cioè lui cresce nella sua responsabilità e nel suo agire cioè proprio è una struttura più grossa più forte no? e quindi è cresciuta appunto questa alleanza con Dio e c'è fiducia reciproca maggiore e Giuseppe rimane completamente in preghiera in discernimento si fa modellare completamente da Dio lui è in continua conversione e l'umiltà di cui mi ho parlato all'inizio trova compimento ulteriore perché noi pensiamo che appunto il crescere no? in questo modo allora allora vuol dire che sei orgoglioso ma è quella crescimento in realtà santo quella crescimento dell'uomo giusto cioè quell'umile che è cresciuto e che ha una struttura e che però ha saputo metterla nelle radici giuste nell'albero giusto e quindi è un accrescimento che in realtà parla non di wow muscolone sono forte ma di un'umiltà cioè un saper stare piccoli pur avendo una grande struttura perché in realtà noi non saremo mai il creatore non saremo mai il padre per quanto potremo crescere quindi Dio si vida di noi si vida della nostra crescita del nostro accrescimento e quindi noi per poterci stare dentro dobbiamo sempre riconoscere di essere creature è lì che chiaramente scatta poi il pericolo chiaramente dell'orgoglio cioè io ho fatto tutto questo bel cammino io sono un grande io sono un macio io me lo merito quindi torniamo un po' anche alla nona tappa di Giobbe cioè credere che Dio ha un occhio un'attenzione solo per chi se lo merita quindi ti devi guadagnare l'amore di Dio e allora dopo potrai compiere le opere che lui ti chiede no non è un merito è un fatto che tu rimani fedele sempre comunque perché ti credi sempre creatura cioè ti sai creatura no cioè hai in mente questo valore che Dio ti dà però stai lì stai lì invece l'orgoglio l'ego no di credere che poi alla fine visto che io ho fatto tutto questo percorso adesso io ho la verità in mano quello lì è il pericolo di cui ci siamo messi un po' in guardia appunto nella nona tappa grazie a Giobbe cioè vedere che Dio è creatore e sempre comunque e infatti con Giobbe cosa fa e quindi appunto che abbiamo detto adesso gli fa fare memoria sulle opere che Dio gli ha fatto che lui ha fatto appunto nella sua vita gli fa vedere che lui è creatore sempre nel bene e nel male in quello che noi riteniamo una disgrazia e una roba che proprio o proprio a me non doveva capitare tutto quanto invece Dio arriva lì e ti dice sì anche in questa cosa io sono creatore anche in questa cosa tu ci puoi vedere una grazia di crescita e allora lì sì che tu ti inserisci come Giuseppe stai in un progetto più grande continui ad avere quella paura sana quella paura sana quel timore di Dio cioè il timore è il fatto che sei sempre davanti a qualcuno di sempre più grande di te incomprensibile un mistero standoci standoci allora in realtà li trovi la vera sicurezza perché proprio in quel timore proprio nel dire oddio come all'inizio primo sogno cioè oddio questa roba è gigante ma solo fidandoti vedi che in realtà nella creaturalità tua lui compie le sue opere e Gesù dice Gesù stesso dice farete cose più grandi di me quindi proprio nella fiducia totale che poi noi opereremo grandi cose alla misura che vorrà lui quindi questo punto poi apre alla fine cioè apre il parto apre la rinascita che è appunto come dicevo prima il punto 4 cioè chiamatelo come volete però è fuori diciamo perché è già finita la gravidanza cioè ricevi il sigillo Giuseppe riceve il quarto sogno che infatti è durante il ritorno all'Egitto cioè il il terzo sogno appunto era di ritornare in Israele dall'Egitto quindi durante questo viaggio dall'Egitto lui riceve un altro sogno che è quello di cambiare rotta di andare verso la Galilea e poi lì si stanzierà a Nazareth dove poi risiederà con la Sacra Famiglia quindi è il viaggio finale dove poi trovi il posto cioè tutto questo peregrinare questo viaggio della Sacra Famiglia in precarietà totale perché solo fiduciosa in Dio pensate a quanta angoscia pensate a quanta angoscia ogni tanto ci penso cioè a Giuseppe e Maria con che angoscia dovevano girare su un asino arrivano per partorire che non sa neanche dove stare cioè pensate a noi a tutti i problemi che ci facciamo nel pensare alle cose pratiche prima ah ma se non sistemo quello poi dopo come farò cioè pensate a quanto siamo noi veramente poveretti davanti a questa fede di due uomini come noi senza nulla di più anzi e che però hanno saputo fare tutto quello che hanno fatto solo per due sì sì di Maria il sì di Giuseppe al sì di Maria quindi il sì a questa gravidanza che è quella di Gesù per loro e però abbiamo visto anche noi in in to the um in questo percorso come ogni rinascita cioè ogni gravidanza che in realtà sgorga da te no? quindi Maria e Giuseppe aspettavano Gesù ma abbiamo visto che mettendo al mondo Gesù sono rinati anche loro come Maria e Giuseppe cioè come quelli che sono adesso e conosciamo noi come Maria e Giuseppe ed è la stessa cosa per noi cioè abbiamo sempre detto appunto anche in to the um tu ti prepari alla rinascita e preparandoti in realtà a una nascita di Gesù in te cioè Gesù tramite il tuo corpo vuole rinascere perché Gesù è una parola che si fa carne in te e ti comunica una parola precisa che solo tu puoi generare generando quella parola tu rinasci tu stesso rinasci quindi è stata un'esperienza della Sacra Famiglia anche questa cioè mettendo al mondo Gesù sono rinati loro come persone no? e quindi nel quarto sogno gli viene chiesto di cambiare rotta in corso d'opera arriva a Nazareth e lì trova pace trova il proprio posto dove poter lavorare dove poter insegnare il lavoro del falegname a Gesù e iniziare il cammino chiamiamolo un po' dell'esogestazione quindi quindi del fuori del fuori gravidanza perciò noi in Giuseppe troviamo quell'uomo che ha saputo mettere la fede al primo posto la fiducia totale in Dio che lo chiama gli dà un nome una chiamata precisa e lui la segue fino in fondo fino in fondo fino a quel buio finale dove siamo adesso perché appunto poi l'ho fatto al buio e mi collego alla decima tappa di Intudeum quella morsa finale quella stretta finale del canale del parto strettissimo quello sconforto finale perché davvero siamo tutti sconfortati alla fine tra l'altro io non so in che parte Italia e il mondo siete ma qui da noi c'è un caldo incredibile quindi sembra veramente un'ultima settimana interminabile di sudore di fatica per arrivare a questo benedetto parto e sei nella stretta finale quel buio finale interminabile o velocissimo dipende da sempre da come tu lì stai e come è relativo proprio a come lo stai vivendo tu però lì Giuseppe ci sa stare davanti a quella paura finale anche perché nel viaggio finale e quando nel quarto sogno gli viene chiesto di cambiare la lotta è perché lui ha paura e dice proprio adesso non mi ricordo le parole precise quindi non le dico per non dire robe non vere però è proprio il lui si mette in viaggio ha paura di arrivare in Israele e quindi cambia rotta e va in Galilea e cioè insomma ha paura di tornare dove l'angelo inizialmente gli aveva detto e quindi poi cambia rotta quindi c'è una paura anche finale che però poi nel sogno gli viene detto di andare dall'altra parte quindi è un po' come noi cioè stare in questa morsa finale in queste ultime paure in questo sconforto di dire oddio no oddio no non ce la faccio e cavolo all'ultimo così no non me l'aspettavo eppure cambia ancora rotta e lì arriva la terra promessa no cioè che Nazareth appunto per la Sacra Famiglia è la terra promessa cioè dove poi si si insedierà e dove sarà la Sacra Famiglia che conosciamo oggi quindi immaginate tutta questa angoscia di questi e di questi poveri uomini come noi che però hanno saputo mettere la fede in Dio al primo posto fino alla fine e allora solo seguendo questa chiamata ricevuta all'inizio fino in fondo arrivano poi ad avere il proprio posto dove iniziare ad associare anche a questa grande fede associare anche questa organizzazione operatività il lavoro cioè agire nella società darsi da fare no quindi è qui tutto il tema che abbiamo toccato spesso anche in questo percorso di noi uomini di fianco diciamo allo stereotipo del macio del muscoloso di quello che ha i soldi così mettiamo proprio anche l'imprenditore quello che ha la giacca e la cravatta quello che sa degli affari comunque in mano grandi cose a livello punto lavorativo così poi magari a livello relazionale però è un disastro quindi mettere il lavoro il posto sociale che hai il ruolo che è santificante perché Giuseppe ci insegna come il lavoro sia santificante lo mette dopo dopo aver ricevuto la chiamata di Dio cioè lui va a insediarsi a lavorare a Nazareth dopo che fa tutto questo viaggio cioè capite come raggiunge il posto il posto fisico e un posto quindi anche spirituale nel suo cuore nel corpo di Cristo dopo dopo che è stato chiamato invece noi dicevo prima mettiamo davanti sempre tutta l'operatività e il cosa devo fare il che posto ho senza però preoccuparci di dove sono chiamato quindi io organizzo le mie cose materiali quindi il mio lavoro le mie cose che faccio tutto quanto in base a quella che è la mia idea la mia comodità la convenienza del momento e non lo so tutto quello che volete senza chiamare in causa Dio quindi io magari inizio a studiare quello a lavorare per quello così semplicemente perché o perché mi piace o perché è vicino a casa o perché sono comodo o perché magari mi darà prestigio quindi magari scegliamo dei lavori e degli studi che magari poi pensiamo che ci daranno un grande stipendio e quindi lo scegliamo per quello e magari passiamo anni passiamo anni così e non ci rendiamo conto che in realtà in realtà la felicità e il vero sentirsi uomini alla statura di Cristo nel proprio posto nel mondo non è quella roba lì perché hai messo davanti quello che pensi tu possa darti la felicità e la stabilità la sicurezza che noi oggi intendiamo così e invece Dio ti chiedeva da un'altra parte e magari magari Dio ti farà poi trovare nella tua Nazareth a fare anche proprio il lavoro magari che hai sempre pensato di fare o di studiare quello che hai sempre pensato di studiare o tutto quello che volete però lo farà al suo modo cioè lui ti ha chiamato e magari voglio dire i desideri che hai nel corto non è che sono sempre sbagliati l'abbiamo detto spesso i desideri sono una parte in cui Dio poi inizia a parlarti e a chiamarti però se tu non li metti davanti a lui possono diventare diventare un capriccio nostro qualcosa che noi vogliamo realizzare e allora è qui è qui che poi si compie quindi e sì ci colleghiamo quindi anche alla decima tappa di Into the Home cioè la morsa finale è muori muori te stesso uomo lascia quello che tu pensi possa essere la tua sicurezza e stabilità e prestigio nel mondo lascialo lascia anche quello che pensi che Dio ti stia chiamando a fare come lo immagini tu lascialo tutto prendi tutto quello che è stato in questo percorso prendi tutto quello che come Giuseppe tu hai saputo accogliere custodire nutrire e tenere e tenere vivo fino adesso prendi questo aprite questo parto e però nel modo che ti verrà chiesto da Dio cioè dagli tutto dai tutto a Dio come Giuseppe ha saputo dare tutto al padre e dopo gli viene dato la sua Nazareth il suo Gesù il suo essere padre di Gesù il suo essere San Giuseppe uomo giusto e virginale cioè è questo no? quindi saper mettere la fede al primo posto e di conseguenza vedersi realizzare quelle opere di bene quelle promesse di bene che ci sono state fatte all'inizio e alle quali appunto a San Giuseppe avevamo affidato l'anno scorso iniziando questo percorso vederle solo dopo aver messo la fede e le radici al posto giusto quindi questa tappa vuole chiudere questo percorso per in realtà invitarvi a due cose che il prossimo anno appunto abbiamo in programma e anche lì ci lasceremo guidare dallo spirito man mano il terzo percorso quello proprio dell'esogestazione quindi abbiamo fatto amati smetti di far del male al tuo corpo che è un po' la base partire dall'umano dal proprio corpo e dall'incontrare Dio tu per tu io singolo con Dio capire che io sono il santuario dove Dio abita e avere un primo annuncio diciamo c'è una prima base per avere una relazione con Dio sana e iniziare a costruire quel sé strutturato quell'autostima e quel appropriarsi di quel proprio corpo secondo quel prodigio che ha in mente Dio poi c'è stato in Tudeum quest'anno proprio di approfondimento quindi di andare proprio ancora di più in questa relazione col Padre per aprirsi a questa chiamata come ha fatto Giuseppe appunto che Dio ha per te quindi dopo il tu per tu allora aprirsi anche all'altro quindi aprirsi a quello che effettivamente mi ha chiesto guardando il mondo e allora questa ti porta poi alla parte finale quindi benissimo l'ho ricevuta c'è un nome c'è un valore mi sono strutturato con Dio adesso mi apro al fuori cioè al fuori pancia al fuori grembo al fuori utero sono veramente nel mondo sono veramente nella chiesa inserito e posso mettere a frutto quello che in questa gravidanza in questo anno ho ricevuto per la chiesa per il mondo intero per il bene comune per il corpo di Cristo quindi il terzo percorso quello dopo rinascita ecco e quindi vi invito a questo perché Giuseppe Giuseppe essendo stato capace di essere uomo così quindi quell'uomo che è in te essendo uomo così allora dopo poi è stato capace di essere padre di Gesù così come è stato e così come ci insegna quindi da uomo a padre cioè prima vai sorgere quell'uomo che è in te prima vai in grembo di Dio prima rinasci tu in rapporto agli altri allora dopo ti viene affidata questa paternità e maternità quindi l'esogestazione è un po' la paternità e la maternità alla quale siamo chiamati tutti e non si parla solo di figli biologici quindi l'idea del prossimo anno è proprio quella di approfondire la chiamata di Dio che hai tu già per la chiesa cioè come paternità e maternità non solo biologica come stato capace di essere Giuseppe padre di Gesù figlio di Dio e così madre Maria così anche noi prendendo a modello diciamo loro due e poi vedremo perché sarà da strutturare e abbiamo già delle idee e vedremo appunto come noi come noi possiamo essere padri e madri che non vuol dire essere genitori basta e quindi imparare diciamo a crescere quel figlio che ci ha affidato appunto che ripeto non è solo biologico e quindi sicuramente vi aspettiamo il prossimo anno da settembre in poi per questo ma ancora prima non guardiamo troppo in là nel senso che di questo ancora non sapremo nulla e lo stiamo un po' costruendo e pensando prima ancora molto più prossimo vi aspettiamo invece domenica domenica per la live domenica pomeriggio che faremo una diretta adesso vi comunicheremo l'orario e come conclusione definitiva di questo percorso ed in in to the umb domani uscirà un video in to the umb di conclusione che anche di vi inviteremo appunto nel quale appunto vi inviteremo poi a domenica perché domenica ci sarà appunto una diretta conclusiva nel quale vi racconteremo anche meglio del nostro parto cioè della nostra famiglia io Emanuele Mariano i nostri figli di quegli orizzonti che Dio ci ha aperto grazie a questo percorso di come quindi si si sta intravedendo diciamo un sentiero davanti a noi proprio per fare questa esogestazione quindi vi raccontiamo un po' magari nello specifico di più rispetto alla decima tappa di to the umb a questa e al video di domani e ci saranno appunto gli elementi diciamo un po' più di testimonianza nostra di concretezza di come Dio ha parlato a noi per condivisione e per quindi anche in confronto con voi quindi tutto quello che dalla decima tappa di to the umb da quella che da quella di oggi quindi da quello che avete ascoltato oggi dal video di domani e guardando tutto il vostro percorso di quest'anno fatto con noi non ci interessa quanto avete seguito che cosa ma semplicemente il vostro cammino dell'ultimo anno insomma aspettiamo da voi appunto rispetto a tutti questi contenuti qua le vostre condivisioni vostre domande dubbi cose che appunto volete portarci in questa live perché poi noi le metteremo lì con voi risponderemo se ci sono delle domande condivideremo se ci sono condivisioni cioè vi porteremo con noi come condivisione generale finale di questi nove mesi di quell'uomo che è in te e di in to the umb quindi vi aspettiamo sicuramente appunto domenica perché vedere vedere concretamente nella nostra vita in particolare ma poi anche nelle vostre rispetto alle condivisioni che magari ci farete noi lo speriamo ma comunque ce ne avete anche già fatte in realtà quindi comunque le porteremo già con noi in preghiera lì e vedere concretamente cosa Dio ha operato e sta operando e opera grazie a queste esperienze e questi percorsi che non sono gli unici questi sono quelli che abbiamo proposto noi in base ai nostri cammini e non sono sicuramente gli unici però vedere vedere come in ognuno lo spirito santo opera e apre nuovi orizzonti è la fede tangibile di quel Cristo incarnato fatto carne mi hai dato un corpo come appunto editor di questo progetto per vedere appunto come la fede è vera si può vivere non è astratta non è un'idea ed è quella che caratterizza la nostra fede rispetto a tutte le altre che sono religioni sono robe che rimangono astratte non si incarnano mai e quindi poi non trovano mai un riscontro pratico e una gioia vera vissuta quindi sarà un modo per fare feste insieme e per vedere appunto quanto questo Dio esiste c'è è bello è incarnato è un prodigio ha un corpo come il nostro ed è meraviglioso seguirlo quindi vi aspettiamo domenica e intanto un abbraccione grazie grazie mille veramente per tutto quello che state facendo per noi perché la provvidenza veramente si sta muovendo tanto se anche tu ti ricordo appunto poi vuoi e puoi essere provvidenza per noi c'è la pagina aiutaci del nostro sito dove trovi le modalità per sostenerci e puoi seguirci sempre appunto sui nostri canali youtube telegram i social il sito internet uncorpomilato.com dove raccogliamo tutti i nostri contenuti e vi abbracciamo e vi aspettiamo ciao